Abitare abbandonandosi a Dio. Cioè l'ashlam è un luogo dove uno abita abbandonandosi al Divino. Una cosa importante quando si viene al centro dell'ashlam è venire con i piedi puliti e le calze non bucate. Così veloce, così veloce, così veloce. La mia mente è così veloce, così veloce. La mia mente è che è stata qua e là. Ma io dico basta, la mente va abbastanza bene, abbastanza va. Alla fine uno viene qua e si rigenera con la mente, è un po' come un punto di ripartenza anche. Con la mente e lo spirito e il cuore soprattutto. Ah, qua bisogna levarsi le scarpe? No. No, lì. Di solito tradizionalmente l'ashlam è la casa di un guru. Noi abbiamo avuto il nostro guru che adesso non è più con noi sulla terra, ma qui stiamo cercando di mettere in pratica i suoi insegnamenti. E quindi abbiamo quattro punti sacri dove ci si toglie le scarpe. Il primo è questo, il mandir, è il tempio. La struttura architettonica è esattamente uguale a quella dell'India, quella che ha fatto costruire Babaji, dove lui ha avuto la sua sede. Ecco, il rito del toglierci le scarpe. Da tutte le parti, anche entrando nelle case ci si toglie le scarpe, è proprio un segno di rispetto. Questo colonnato, questo tempio, una struttura tipica indiana, si combina molto bene con la struttura così particolare dei trulli. È qualcosa di unico, devo dire. Prima della costruzione di questo tempio, di questo mandir, usavamo come tempio questo trullo, che adesso chiamiamo Kirtan Hall. Questa è la sedia, la poltrona simbolica di Babaji. Questi sono i sandali, o tradizionali, di legno di Babaji. Rappresentano la sua presenza fisica qua, allora noi sappiamo che fisicamente non è più con noi, ma con il spirito lo è. Voi sapete che in India si considera una realtà le rincarnazioni e sappiamo che Babaji ha avuto varie rincarnazioni. Infatti questa è la foto di una sua rincarnazione precedente. Cioè Babaji prima era... Era in questo corpo nel novecento e poi nel 1970 si è manifestato con quest'altro corpo che tu vedi in quest'altra foto. Il vostro saluto, il vostro... No, no, Onama Shiva è un mantra. Ti dico il significato in sanscrito. Sì. Il suono Om. Om. Con questa lunga nasalizzazione si dice in sanscrito. Om. È il rumore, il movimento della creazione dell'universo. Namaha significa fare così. Unire le mani, inchinare la testa, insegno di rispetto. Om è il verbo, come dire. Namaha, ti saluto così. Shivaya. Shiva è un nome di Dio. Che significa tu che sei il bene. Quindi ti saluto con rispetto a tu che sei il bene. Posso dire che questa cosa che abbiamo visto è proprio forte? Ma io sapevo che ti è piaciuta.